per fare un pezzo suo, uno dei più belli sicuramente grazie per l'applauso a Michael allora, il pezzo è il Beatit dove c'è un famosissimo assolo di Eddie Van Allen è uno dei più grandi che ha visto nella storia del rock è quello che ha inventato il tapping di sua ricetta proprio con questo pezzo, con Beatit allora, alla voce abbiamo Antonio Pagano che è stato veramente prezioso vogliamo fare un applauso ad Antonio, molto forte, grazie alla chitarra abbiamo due chitarristi che c'è la storia, c'è comunque un accompagnamento molto molto bello abbiamo Ettore Rossi alla quita alla alla a 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti